E allora siamo qui con i Pischelli, i ragazzi dell'Individual Soccer Project, abbiamo Leonardo, Giulio e Nico. Allora ragazzi avete finito la prima partita, come è andata? Bene. Bene, avete vinto? Sì. Quanti gol hai fatto, Leonardo? Io uno. Uno? E tu? Tu niente, ti rifarai le prossime partite. Allora vi volevo chiedere, ragazzi, che vi aspettate da questo torneo, ve la potete giocare fino in fondo, come è la vostra squadra, è forte? Sì, abbastanza. Chi è il più forte della squadra? No, entrambi. No, entrambi chi? Secondo te, Leonardo, chi è il più forte? Non contando me. Non contando te, esatto. Nicola e Giulio. Ah, ma te sei un paravento però, perché stanno qua. Per te, Nico, chi è il più forte? Leo e Marco. Ah, è Marco. Leonardo? Leo e Marco. Ah beh, Leo, certo, scusa, me ne so distratto io. Per te invece? Secondo me è Leo e Marco, secondo me. Chi è questo Marco? Ma Marco è il più forte di tutto, l'avete detto tutti. Vabbè, volevo sapere un'altra cosa. Intanto mi dite, in che ruolo giocate e chi è il vostro giocatore preferito da cui prendete ispirazione? Leo? Io gioco fascia, attaccante. E quindi chi ti piace? Sule. Sule? Ma è una pippa, Sule? No, è forte, ti piace? Te che dici, Giulio? Io attaccante centrale. E chi ti piace? Lautaro. Lautaro, non sei dalla Roma. E di che squadra sei? Inter. Ma no, com'è possibile? Nico, ma tu non gli dici niente che è dell'Inter. Eh, fascia e difensore. E mi piace Messi. Messi, però Messi non giocava difensore. E' un difensore che ti piace? De che squadra sei tu? Sopo la Lazio. De che squadra? Della Lazio. Della Lazio. Però, alla Lazio non ce so difensori forti, quindi non puoi dire nessuno. Vabbè, ragazzi, in bocca al lupo, fate un saluto a tutta l'organizzazione Sporting Tour. Un saluto, un saluto. Ciao. E sempre forza? Inter. Io avrei detto Individual Soccer Project, però fate voi. Grazie, ragazzi. In bocca al lupo. Ciao. Grazie.